Temporali d'acquazioni stanno interessando la costa abruzzese da questa mattina con conseguenti disagi alla circolazione e allagamenti, in particolare a Pescara, cui si riferiscono queste immagini, sono diverse le strade impraticabili in periferia e nella zona sud e a Giulianova in zona annunziata nei pressi del casello della 14. Completamente allagati e quindi interdetti al traffico alcuni sottopassaggi, numerosi gli interventi dei Vigili del Fuoco a Pescara, in via Spavente e via Celommi che sono stati chiuse temporaneamente al traffico veicolare. L'intensità delle precipitazioni ha causato problemi anche perché alcuni tombini parzialmente ostruiti da foglie e aghi di pino non riescono ad assorbire l'acqua. Decine di interventi dei Vigili del Fuoco nel comando provinciale, al lavoro anche gli agenti della Polizia Municipale. L'assessore della protezione civile ha allertato le associazioni per l'utilizzo delle idrovole, chiuso il sottopassaggio di via Raiale, per qualche momento anche le golene che sono state riaperte nella tarda mattinata. Le previsioni meteo annuncia un miglioramento previsto per la serata e attualmente ha smesso di piovere.